Nel big match del Granilo vince la regina 4-2 contro il Pescara, al secondo minuto segna Missiroli sul calcio di punizione di Emerson, tocca forse con la spalla Missiroli e segna il secondo gol del suo campionato, al 42esimo arriva il gol del 2-0, se ne va in campo aperto Campagnacci che con il destro fa secco Anania e 2-0 al termine del primo tempo, poi la regina parte forte anche nella ripresa, Bonazzoli, bello il pallone in verticale ancora per Missiroli, con il numero 3 del campionato di Missiroli, insulta l'ex giocatore del Cagliari, poi si addormenta un po' la regina e allora torna in partita il Pescara con uno splendido calcio di punizione di Cascione che batte Kovacic, gol del 1-3, arriva anche il gol del 2-3 e lo segna Magnero, prima in signe, conclude verso la porta, Kovacic non benissimo e Magnero segna il gol del 2-3, anche qui esultanza piuttosto polemica, poi fallo di Brosco su Ceraulo, dal dischetto Ceraulo, segna il gol del 4-2.